Benvenuti, siamo con Gabriele Lucci, ex direttore dell'Accademia dell'Immagine, cofondatore di questa istituzione da poco messa in liquidazione. Qualche giorno fa il direttore del Centro Sperimentale di Cinema ha speso delle parole abbastanza dure sulla gestione dell'Accademia affermando che con quei conti non poteva che chiudere. Come replica questo? Certo, replico subito. Innanzitutto che è un'entrata a gamba tesa, tanto inattesa quanto violenta. E allora la cosa subito da chiedersi è perché, come mai una persona che non era stata tirata in ballo improvvisamente esce fuori con delle dichiarazioni così forti. Allora, dico, ma come proprio noi aquilani che siamo stati colpiti dal terremoto a un'elaborazione del lutto, perdite di case, a questo punto dobbiamo ascoltare un manager, perlomeno questo è, che dovrebbe essere attenti innanzitutto al prodotto che viene fatto e che è stato fatto nell'Accademia. Perché se il cinema è il cinema, come dice Godard, qui questo cinema è stato ben capito ed è stato fatto in casa, come i prodotti made in Italy. Questo è made in L'Aquila, sul territorio. Allora mi domando, dopo 35 anni di lavoro, di cui spesi 20 per l'Accademia, io questo sogno non l'ho mai tradito, mentre è molto più facile tradirlo da parte di chi, nel caso di Foti, manda delle lettere alla Regione dicendo che chiudi immediatamente se non gli danno i soldi e la Regione immediatamente glieli dà, altrimenti chiude la sede. Io sono rimasto ai miei impiegati, ai miei collaboratori, a Vittorio Storaro e insieme a altri premi Oscar a combattere e a soffrire per questo territorio. Non me ne sono andato al primo sacrificio richiesto, oppure al primo vento che arriva e dice sai, ti arrivano in ritardo i fondi, abbiamo combattuto. E non è che siamo stati esauditi subito, e tra l'altro con gravi ritardi anche da parte degli antilocali. Dunque questo modo di essere secondo me assolutamente non va condiviso. E poi ci faccia casa, non si parla mai di questo prodotto, ma allora un manager che si rispetti dovrebbe tenere conto che il prodotto, in questo caso in marchio Accademia, vale 10, 20, 100 volte il debito che aveva contratto prima del terremoto e che comunque fino al 5 aprile era stato risolto il problema, tant'è che c'era un mutuo con la cassa di risparmio, quindi frontecciabilissimo da una proprietà che valeva, con perizia giurata, 6 milioni e che oggi ha dei fondi dello Stato, non aquilani quindi, ma dello Stato, di 6 milioni di euro più 1 milione per il cinema massimo. Ricostruito farà circa 10 milioni se non 12, questa è la previsione. Vogliamo perdere anche questo tram? E questo è quello che mi chiedo. E riguardo poi proprio alle valutazioni che fa Foti anche in merito sia alla gestione sia, mi sembra, un po' a tutto il resto. Ma scusa, ma Foti dov'era quando il 21 aprile sedeva insieme a 1500 persone ad ascoltare i premi Oscar che applaudivano all'Accademia per la raccolta dei fondi? E Foti come mai a Venezia nel 2010 davanti a Francesco Giro, sottosegretario alla cultura, insieme a Chiodi, a Di Dalmazio, a Pagano, spendevano parole, quindi un anno e mezzo dopo il terremoto, quando già avevano valutato le carte, spendevano parole a favore dell'Accademia e applaudivano a me che stavo in prima fila per quello che avevo fatto. Come mai secondo lei questo cambiamento? Non lo so, c'è da chiedersi, io poi non lo so, in realtà lo so e lo dirò tra qualche secondo. Quindi io non ho mai tradito questo sogno, lui parla di sogno perché è nato a Santo Stefano e che sogno è se uno al primo vento contrario dice che spianta tutto e se ne va? E tra l'altro tenga anche conto che il delegato della regione, cioè mandato dal governatore Chiodi, aveva approvato quella richiesta di mutuo per la cassa di risparmio prima del terremoto, per quel debito e quindi aveva valutato le carte, stavano tutte apposta, allora qual è il problema? E poi ancora, se è vero questo, come mai l'assessore, se è vero quello che dice Foti, come mai l'assessore De Fanis nel 2011, quindi come vede ci allontaniamo dal terremoto, dice che l'Accademia ha operato in modo corretto e buono per vent'anni, nel suo mandato ventennale. E mi faccio spendere la parola a favore di De Fanis perché qua bisogna pure fare delle valutazioni serie. Io confido molto in De Fanis, è l'unica persona che ho conosciuto ultimamente che è degno secondo me di stima, sia perché si è compenetrato nelle difficoltà di noi aguirani, sia perché è una persona serena e pacata e agisce per la conciliazione, agisce in modo, come dire, sereno, comprensivo. Allora se Foti parla di sinergia, quale sinergia si può mettere in atto? Se arriva e scende in campo con l'ascia di guerra, cioè in questo modo inusitato di una violenza mai vista, in realtà si sta creando all'Aquila un clima di intimidazione, di paura e una politica così pervasiva che ormai mi aspetto di tutto perché arriva dappertutto una cattiva politica. Noi non abbiamo, non avevamo assolutamente bisogno di questo. Allora dovrei, io mi sono sempre astenuto da entrare a Gambatesa rispetto sia alle istituzioni consorelle che giriscono all'Aquila, sia rispetto alla Scuola Nazionale di Cinema. Quando c'è stata una vivace e vibrante protesta degli studenti nei confronti della Scuola Nazionale, anche uscita sulla Repubblica, perché non ne condividevano la gestione. Io non ho detto guardate che dobbiamo entrare in sinergia con una scuola che perlomeno viene attaccata così, perché io sono molto rispettoso di quello che succede altrove, ma vorrei altrettanto rispetto di fronte agli aquilani che si sono spesi una vita per il proprio territorio. Io ho speso 35 anni, io ho iniziato il 5 maggio del 1976, 35 anni di lavoro, i miei migliori anni, giusto per mutuare un titolo di un film famoso, ho dato i migliori anni della mia vita a questa realtà. Allora io credo che di fronte a questo, quando si dice di gestione oculata, la sua, di fronte all'Accademia, ma la sua è oculatissima signori, ha 550 mila euro per tre impiegati, non per servizi sul territorio, ma semplicemente per molto meno studenti dell'Accademia e 200 mila euro circa in più l'anno rispetto a quello che aveva l'Accademia. Mi parla di scelta oculata, ma tutti sono capaci di gestire in quel modo. Tra l'altro senza, ripeto, una cosa fondamentale, noi ci mettevamo al servizio degli aquilani perché abbiamo ristrutturato senza un euro il cinema massimo su richiesta fortissima sui giornali per ridare quello spazio di una monosala, sottraendola a un supermarket. Siamo riusciti a fare questo e nessuno ci ha aiutato. Allora quello che dico io è, ma scusate, parlate di gestione, allora perché non dividete il foglio a metà e mettete da una parte quelli che sono stati i contributi pubblici. Noi abbiamo iniziato nel 1992 insieme all'Università degli Studi dell'Avila e poi facciamo dall'altra parte che cosa è stato fatto con questi fondi. Però poi questa valutazione, facciamone in rapporto a tutte le scuole di cinema d'Italia e vediamo che cosa esce. Questa è una valutazione seria. Quindi credo, per chiudere, credo davvero che la domanda di fondo che io mi sento a livello personale di rivolgere agli aquilani, ma anche a me stesso, dopo tutti questi anni ci siamo arricchiti noi che ci abbiamo lavorato? Cioè io, gli impiegati, i premi Oscar? O forse abbiamo arricchito noi il territorio? Per quello che mi riguarda possono venire a vedere i conti correnti, le dichiarazioni eredite, non solo miei, ma anche degli altri. E ho spiegato questo in un documento anche che è stato raccolto da una parte di intellettuali aquilani che sono molto contento che ci sia stato questo conforto. Ma queste cose vanno dette, cioè non è possibile che l'Aquila viva sui cigalecci, sul si dice. Allora, sotto questo profilo, mi sa, tra secolo, anche quando nomina la Phil Commission che servirebbe una cosa del genere, ma come? L'abbiamo fondata nel 2001 la Phil Commission, non è mai stata data un euro alla Phil Commission, laddove le Puglie e gli altri danno tantissimi soldi. E quante volte l'Accademia ha richiesto di poter andare all'Unione Europea ad avere dei fondi sociali che invece vengono spesso respinti e fanno ritorno a Bruxelles? Io credo che insomma sarebbe stato, per chiudere, molto ma molto più facile assecondare uno sviluppo del genere. Anche perché sarebbe stato sempre al di sotto di quello che poi alla fine aveva proposto lo stesso Foti in convenzione con l'Accademia, perché lui originariamente nella sua convenzione parlava addirittura di 7 barra 800 mila euro l'anno per qualcosa come 5-7 impiegati. Allora siamo stati dei geni noi a farlo, perché pur se lei spalmasse i debiti durante i quasi vent'anni si renderebbe conto a che livello arriviamo. Cioè il mantra dovrebbe essere l'Accademia dell'immagine, i due punti, con pochi soldi, tanta qualità. Questo è quello che mi sento di dire. Si sente anche di replicare a questo punto le dichiarazioni del Presidente Chiodi che ha parlato di clientelismi e comunque un'Accademia dissipatrice. A me è dispiaciuto molto e non me l'aspettavo che il governatore Chiodi, anche perché un po' ci avevo parlato dopo il terremoto, insomma avevamo scambiato anche se fugacemente nei corridoi. Però io mi ricordo Chiodi che disse che l'Accademia è andata in crisi, me lo ricordo proprio stampato, per impegni politici assunti e non mantenuti. Cioè voglio dire qualcosa che l'Accademia si aspettava, ed è vero questo, ed era stato sempre molto pagato. Le sue dichiarazioni mi hanno molto amareggiato, ma ripeto, un suo, non me ne voglio De Fanis, un suo uomo come si dice in politica, comunque un suo assessore importante. Io confido molto in De Fanis e confido molto in una possibilità di dialogo tra De Fanis e di Cialente come primo cittadino per trovare delle soluzioni. Forse non si troveranno di fronte anche al nuovo progetto dell'Accademia politica. Però non è che uno può andare al fucile e ammazza la gente, se la politica non le vuole trovare delle soluzioni, ma non si infanchi per cortesia il passato, cioè quel marchio vale. E quando Foti dice che è assicurato l'attività didattica dopo il terremoto, no, l'attività didattica l'ho assicurata io, Gabriele Lucci con i suoi amici premi Oscar, con Paolo Cortellesi, Massimo Ghini, Vittorio Storaro, Ennio Morrigone, perché noi abbiamo trovato 450 mila euro. Con quei fondi si è assicurata l'attività didattica, con questi fondi, non con i fondi politici, quindi gli anni spesi successivamente sono stati assicurati in questo modo. E anche se togliamo ai 450, togliamo 80 mila euro del Ministero, che era l'unico fondo pubblico, il Ministero però subito dopo il terremoto ha detto questo è un bene dello Stato italiano per l'alto valore formativo e gli diamo subito 80 mila euro e io li ho ringraziati perché si sono comportati benissimo, però tenga conto che l'Accademia non può accedere come le altre istituzioni a fondi statali perché è di emanazione regionale, quindi ci serve la regione, allora siamo stati sempre tra l'incudine e il martello. Certo che a me è dispiaciuto che Chiodi ha detto così, io non me l'aspettavo da lui. E riguardo a Carrozzone, come possiamo, ho già risposto in quel documento che tutti gli aguirani si possono andare a legge su Angelus Novos, ma proprio sulla gestione dico, è un punto di forza, cioè noi abbiamo sviluppato anche occupazione e abbiamo fatto in modo che questi ragazzi potessero assicurare il futuro e da quando in qua c'è colpa per sviluppare l'occupazione sul territorio, non era meglio assecondarla e quando Fodi parla del 40%, scusi di 400 mila euro destinati agli stipendi e 350, ma molto più della contribuzione pubblica perché i bilanci venivano promossi, implementati attraverso produzione autonome e quindi il bilancio poneva in una situazione di equilibrio gli stipendi con l'attività. Questo è quanto. Quindi non era un Carrozzone. Ma quale Carrozzone? Ma secondo lei si può parlare di Carrozzone quando abbiamo avuto degli esiti eccezionali in vent'anni? Mai sbagliata un'attività? Ma allora perché Tom Manx insieme al cast di Angelo e Demoni dovevano da 100 mila dollari su quei 450 mila? Perché il Ministro ha fatto quelle dichiarazioni? Perché lo stesso Foti con Chiodi, Pagano e gli altri in conferenza stampa hanno detto che l'Accademia era un valore e Lucci si era comportato bene. Allora come mai? Ma se abbiamo avuto tanto applauso, se addirittura Astoraro ha fatto un libro suo e ci ha messo in marco Accademia dell'Immagino come ricordo e per la verità sulla rivista Ulisse 2000 dell'Alitalia, quella che danno in volo, ha detto che la città dovrebbe essere riconoscente a uno come Lucci, che mi hanno orgoglito questo. Allora dico per quello che ho fatto. Allora mi domando ma come mai se è un carrozzone come fa a produrre dei prodotti così di elevato livello? Senta, per quanto riguarda il futuro dell'Accademia, secondo lei ci sono i margini per salvarla? Questa è una domanda che andrebbe rivolta alla politica. Io credo che sia da scellerare di perdere anche gli stessi investimenti degli antilocali perché anche se non erano quelli che dovevano assicurare questo sviluppo sul territorio, riconosciuto a livello internazionale e io sono disponibile a buttare sul tavolo tutti i prodotti che abbiamo fatto, perché anche se l'ho perso col terremoto molti per fortuna l'ho recuperato, io credo che dovrebbe perlomeno dire presentiamo un progetto nuovo, restiamo a disposizione delle altre istituzioni, anche della scuola nazionale di cinema, centro sperimentale, perché io non sono d'accordo con chi agita, lascia di guerra, penso che le cose vanno ponderate. Allora se c'è nessuno vuole scalzare oggi quella scuola, ma nessuno dovrebbe scalzare anche l'Accademia, quantomeno trovare un progetto tale da mantenere sia l'occupazione di tutti i posti di lavoro, perché comunque ci sono anche altri impiegati che stanno in cassa integrazione, allora bisogna fare in modo di sviluppare sia un prodotto valido per nuova occupazione, sia per ricoprire e quindi salvaguardare l'occupazione vecchia. E chi dice che non si può fare? Con un po' di intelligenza, un po' di fantasia, un po' di volontà, perché non si può fare? Potrebbero coesistere? Ma coesistere su binari diversi, loro è giusto quello che fanno, però non è giusto se dicono queste cose con questa violenza, allora la politica deve prendersi la responsabilità di dire che questo prodotto dell'Accademia secondo noi non è valido, uno. Due, c'è un carrozzone e quindi è un ente inutile, per tanto lo giudiamo, allora lo faccia, lo faccia, si prende la responsabilità di fronte agli acquirali e dice vabbè voglio aiuterlo, uno se ne farà da ragione, poi non lo so, alle prossime elezioni uno voterà quello che ritiene il più opportuno, se hanno agito bene li vota se no no, ma uno che deve fare? Cioè se sono convinti di questo, però si ricordi che nessuno mai, salvo qualcuno, ma insomma in modo molto scomposto, su tutto possiamo ragionare, ma non sul prodotto dell'Accademia, quel marchio vale moltissimo e l'hanno mostrato, l'hanno mostrato tutti il mondo del cinema e il mondo internazionale, se il direttore generale della Walt Disney Pixar ha mandato dei soldi ed è stato uno dei nostri docenti, dice qualcosa, allora noi non possiamo rinunciare al servizio sul territorio, certo che non potevamo fare il cinema massimo, certo che non potevamo mettere al servizio le altre istituzioni, certo che non valeva la pena fare la produzione didattica con Vittorio Storaro e con gli altri e stare al Festival di Venezia, quindi ma tante cose potevano essere fatte, ma se siamo una cosa viva e vitale, lo facciamo con pochi soldi, a te basta poco per sviluppare, perché non lo fai? Perché devo giudermi dentro le mure e fai una scuola anonima con pochi studenti, con pochi impiegati? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che non si può colalto? Allora dobbiamo smetterla con queste pulsioni autodistruttive, un cubo di soldi che guardi, se infila l'Accademia man mano si sarà come nella giurisdizione creato un precedente, allora da domani forse possiamo attaccare anche un'altra istituzione e questo io come cittadino non lo voglio, per cui ho dedicato la vita a questo, continuo a farlo, anche se non ho un ruolo come diceva lei, perché poi dal 2006 è stato l'ultimo anno che sono stato direttore, ma non significa niente, bisogna creare una successione, cioè quindi dare la possibilità a questi giovani di venire su e dare loro una prospettiva.